No, con la telecamera no, con quello è nato male. Cioè ne affetti stare a fare. Dove è stata andata? Stiamo andando. Abbiamo morito. Abbiamo morito. Mi comana anche la Camilla con un piccolo incidente subvenuto nella salita al vulcano, anche nella scelta. E dove siamo qui? Siamo in canale a fare le poste dei suicidi. Non è un po' di affare. Placcio. Non è un po' di lavoro. Sprella. A una scelta. C'è un po' di fangetà? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti